Sì, Pescara è riuscito a sfruttare alcune situazioni in cui non eravamo messi bene in campo, l'ha fatto attraverso la qualità dei giocatori offensivi che davanti. Ma è una buona squadra, una squadra che quando inizia a giocare ti prende il palleggio, ti viene sempre a giocare tra le linee, giocatori di esperienza, giovani bravi, memushai, piuttosto che mascinga l'anno stesso, davanti sono pericoli, non siamo riusciti ad arginarli e quindi secondo me è lì che hanno vinto la partita. Tre partite di tramezzani sulla panchina del Livorno, zero punti. Cosa si sente di dire, soprattutto ai tifosi? I tifosi... c'è grande amarezza, c'è grande dispiacere per non essere riusciti a portare qualcosa di mio perché mi rendo conto che soprattutto quando c'è un cambio d'allenatore è quantomeno una reazione, una fiammata, un po' d'orgoglio. Di solito la squadra lo riesce a tirar fuori, sino a questo momento non ci sono riuscito, mi prendo tutte le responsabilità e l'augurio è di poter riuscirci il prima possibile. Io faccio le ultime due considerazioni da parte mia. La prima, come poteva cambiare la partita se il pronti via Marras riusciva a fare il gol dell'ex e poi ho visto un Livorno nel secondo tempo quando si è messo con il 4-3-3 molto più intraprendente nella metà al campo del Pescara. Se non altro non li ha fatti ripartire con la facilità con cui lo facevano nel primo tempo. Lo so, nel calcio sì, è stato un episodio importante, era inizio gara però poi le gare hanno un percorso diverso, quindi è certo che era meglio andare in vantaggio piuttosto che subire il gol. Poi per quanto riguarda i moduli, schemi, numeri, credo che sia un po' riduttivo. Secondo me oggi abbiamo patito soprattutto l'approccio, soprattutto il fatto di andare in difficoltà sul gol degli avversari. Non so quanto fosse cambiato giocare a 4-3 o 5 dietro inizialmente.